Lazio, 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 Silenzio, Lazio, Cristiano Pace Detto riperte bra, la vita dedicata al garcio e alla violenza perché se c'è da fa cazzotti io so sempre il primo e botte se danno e se prendono, io le prendo, tanto male mi hanno fatto, tanto dolore mi hanno causato Qual è l'ultima trasferta a cui hai partecipato? L'ultima trasferta è quando Lazio è nata a giocare con l'Inter a Milano di cui io e cinque stavo già nel pullman so salito, ho ordinato tutte le cosucce miei lacrimogeni e molototti pezzi dei chef poi questa rega non cantiamo ancora quando Lazio si butta all'attacco, i conigli a scappar tornerà Forza Lazio, che Lazio, che Lazio! Allora stavano tutti i zitti, dico ma che è il pullman di infante? Dico ho capito, finchè non saccheggiamo il prossimo autogrill mi metto a dormire Dico io, mi metto a dormire e a un certo punto mi sento dire ragazzi svegliate che siamo arrivati al santuario della Madonna dell'Oreto Santuario di che? Mi arco! Faffancina, era il pullman dei pellegrini alla Madonna dell'Oreto Dico, sono andato dall'autista, ho preso per collo, gli ho detto infame che mi ha portato al santuario dell'Oreto E io volevo odiare a Lazio, che me frega del L'Oreto che sta in promozione Ho preso, gli ho dato alla capoccia Ecco gli hai dato alla capoccia Alla capoccia, che poi Boraccio manco era tifoso del L'Oreto Anzi manco era tifoso del Carcio, era maestro del Judo Per collo mi ha preso lui, mi ha fatto ripete cento volte Non se deve parlare all'autista, non se deve parlare all'autista, non se deve parlare all'autista Poi mi ha portato sotto il santuario, tanto male mi ha fatto tanto dolore, mi ha causato Che sotto quel santuario mi deve proprio aver gonfiato delle botte Perché io quel giorno a Lazio non l'ho vista Ma la Madonna si Tanto male mi ha fatto, tanto dolore mi ha causato Sì ma qui cosa mettiamo sul verbale? C'è chi nasce nel presente, c'è chi nasce nel futuro, mi dichiaro biancazzuro Lazio! Lazio! Portatelo via! Lazio! Lazio!